Siete abituati a ricevere via mail strani Babbo Natale ed improbabili presepi, ma quest'anno l'EDP ha deciso di usare di più, nonostante sia impegnato nella realizzazione di progetti ambiziosi e impegnato anche in un forzato contenimento dei costi, contenimento dei costi con il quale qualcuno ormai ha imparato a convivere, specialmente quando si parla di nuove apertura. Tutto l'EDP vi auguro buon divertimento e Buon Natale! 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 Grazie a tutti.